Gli regali di Natale, vogliamo parlare delle mangiate di Natale? Tostetti là ho 24, ah ci ne ho 24, ho pranzo qui vicino, arrivo o no, non sono cazzato, chiamani ho Capitone, come piace questa cosa, non ci sta, chiamani ho Capitone, ho Capitone per augurio, ho Capitone ho più di minuti come è nasciuto tra 7 e 8, come è nasciuto, scelta così qua, scelta tra 7, tra 7 e 7, ti capete niente, vogliamo parlare? Un baccalà, ma io, chi ne vuoi non si mangiava un baccalà? Un 24 a 6, fu 24 mattina, a Napoli, potesse pure un quintale in mezzo, si dice sempre pezzulla e baccalà, ma com'è che non pezzulla, pezzulla, zico, 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 non dice la cucina? Un'attore che non c'è la capa, non ce l'ha fatta chiusa, ti ha pillato un'altra, un'attore che ti rimane un goppo, un maglione, ti rimane un goppo a cammese, ti rimane un goppo a cammese, dietro, pezzulla, ti ha la fuoco, ma io e mentre ti stai mangiando, l'unica cosa che ti piace, è quella serata, un spazio e bovole, sei già un grado bello, che è stato sempre aspettato e non è mai rotto, sei già già, mi sono ricordata la poesia, ma tu li ha morito, si fa sempre zitto, e i dolci, vogliamo parlare dei dolci, si ha fatto gli stufoli, questi finiti, sei basti cose, sono fricci, sono zicci, sono pregge, c'è un brunello che stufoli che fai tu, cavolo roccoco, pagliù, ma chi è andato lo roccoco? Un roccoco, sapete che è? Che è un roccoco? La frate scena con un casa dietro, non si chiama nato, ma come lo fai lo roccoco? Chi sarebbe ricevendo? Un roccoco è talmente tosto che ha prima di mettere bocca, che mi rientro e fa paura, mi rendono! Oh, ma gli u, c'è sempre quello professore che si attegge, arriva e fa, oh, hai buttato questi dolci qua? Questo qua, hai piato nella pasticceria che si attegge su lì, ma sei da me, fratini, ma si, sai, sei solo tu, e ci vai una volta l'anno, ma che il sanguardo è chiuso? Forse andare da spetta! A un pesce, vogliamo parlare del pesce, voglio andare a casa mia quando si attaccato lo pesce a Natale, se sento il mio suo zio, tu non capisci niente di pesce, voglio un zio che si attaccato a Natale, quando si attaccato lo pesce da casa mia, l'unico pesce vero è un zio. Sempre che ti fa festa, voglio sempre, accattato al ristorante, ho degli occhi chiusi, state sito, state un merito! E l'albero di Natale, voglio, dite se non è vero, l'albero di Natale, tutti quanti ugoli ti fanno, tutti, non c'è male l'albero, la pallina! Vieni giù, lo vuoi spuntare! Più stanno, sono arrivato a Marzo, dalla casa mia, scurando per Natale, dove la stavate? Buono baccalà! Al che arriva mia mamma? A Marzo, arriva mia mamma! Oh, sì sì, come adorano queste palline! Senti, adoro le palline! Uè mamma, non sono palline, stanno spuntando in Purtuano! Grazie!